Ma perché forse il centro l'abbiamo già superato Bella Allora, facciamo, io di ogni caso ti sei what è Ah, ecco il centro, ecco il centro Che volevi fare? Il centro Sì? Ci vogliamo fermare a mangiarci qualcosa? Vorrei vedere a sto punto se andavamo a zona del Duomo Andiamo, andiamo Mettigli il Duomo che ti darà la strada giusta Magari lì qualche cosa c'è A livello di mangiare, a livello di bar Ci posso gridere? E quando muoio? Se zeccano forte No, ci devo stare attento Sì Signorina Ma che bello pittoresco Il pomodoro, peccato Stiamo provando ad andare al Duomo di Piazza Almerina Deve farcela, forse ce la possiamo fare anche perché Il Duomo è là sopra, è una bella scalata Guarda che c'è il Dakaruz Palazzo di città, questo dovrebbe essere il comune, penso Ci sono anche le bandiere Tutte da questa parte Tutte da questa parte Bellissimo Ora mi ricordo perché con la scuola ci andavamo Per questo Il Duomo Ah, e lì c'è un bel bar Davanti al Duomo E davanti a questo spettacolo di natura Signore e signore Il Duomo Di Piazza Almerina Bruschette, marina alla piastra, calzoni, arancini, focaccio e tosto Io direi che ci possiamo anche fermare qua Ora mi sto giocuttando perché venivamo qua con la scuola Quando vuoi, ti seguo Oh, e si riparte Dopo un piccolo break Eeeh, torniamo indietro, che te dire Meno male che abbiamo portatelefoni buoni, sono a questo là, a terra Da qualche parte dobbiamo andare Ecco il trosezzo Vabbè tranquillo, male che va la riprendiamo dopo, stiamo andando all'avventura Ci siamo? No, no, ma vedi che ti dà l'indicazione precisa, è stata chiuda, se dobbiamo andare a destra ci possiamo andare Direzione obbligatoria è addirittura, quindi No, che bello, che bel panorama Ah! Ah! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene, scendiamolo, vediamo un po'. Comunque sì, ho un po' di sedere ci di è venuta. Faccio due riprese nel frattempo. Grazie a tutti. Bene, una bella lamina di ferro che se si piega troppo... Vedete che sembra che la spazzatura... Occhio qua non ci passare proprio... È un ex lavatoio. Ex lavatoio? Quindi lavavano i panni. Carino. Anche se lo stanno facendo deperire perché... È un bel mosaico là. Dove? Là? Vi vado a dare un'occhiata. Ah, quello della Madonnina. Allora... 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 E infatti scola di qua. Allora... Andiamo. Ah, bravo, hai fatto bene a non chiudere la chiamata. Perché ogni vuoto ha un bordello questi costi. È a posto. Verso questa villa. l'esaposa è quella la chiamata... a mezza dita no perché non si può qualcuno ha tagliato la strada a qualcuno diciamo di sì come? ah sì inizia così no io dicevo la strada mamma mia ma infatti devi stare attento col tuo sai perché? perché no eh no stavo registrando dicevo col tuo portatelefono devi stare attento perché rischi di danneggiare il eh? il studio non ne passo e l'ho fatto io già se vuoi te lo passo poi dopo e lo sto facendo io esatto danneggi rotturatore va bene l'ho visto dove dobbiamo andare? ah da qua ah sì per forte sì e andiamo giù esatto sì dove si vede dove si vede il basolato vecchio se si espone di fuori e questo è perché le cose antiche durano di più infatti vedi hanno fatto la colata di cemento e durata un cazzo preciso però vediamo in ogni caso l'indicazione ce l'abbiamo a quanto parlo non 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Villa Rosana Casale 2,5 metri Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh no Ah no 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 di qua di qua di qua di qua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Per me va bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti sono alto Sì Perché? Che è successo? Eh? Nooo Ah? Bellissimo Cito Stavolta dici mi picchiamo con l'agio Vero Tanto sto registrando io tranquillo Ah? 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 vabbè stiamo rientrando in pratica ah e vabbè niente non è andata verso il padrone non è il problema non è andata verso il padrone 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 non è andata verso il pad sì ma tu il vibratore a casa te lo devi tenere controlli se c'è la carta per favore che mi metto all'altro lato ma sai com'è